Temperature estive questo fine settimana su tutta la penisola. Con il bel tempo si sa si è predisposti ad uscire per delle lunghe passeggiate all'aria aperta, accarezzati dai caldi raggi del sole primaverili. Se poi le temperature arrivano a sfiorare i 25 gradi, allora chi è più coraggioso ne approfitta anche per farsi il primo bagno a mare. E infatti questo fine settimana in diverse località costiere come Agropoli, Castellabate, Marina di Camerota, Palinuro, Ascea, è accaduto. Tanti cittadini ma anche i turisti che hanno fatto visita alle località più belle del Cilento e che non hanno risparmiato anche una capatina al mare. I punti con maggiore affluenza di turisti e cittadini ad Agropoli sono stati Piazza Vittorio Veneto, il Porto Turistico, il Centro Storico, ma soprattutto il lungomare San Marco e la splendida Baia di Trentova. C'è chi invece con il bel tempo ne ha approfittato per recarsi in montagna, a godere dell'aria salubre e per delle escursioni nel verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Positivo il bilancio delle visite anche nella città dei Templi di Pestum presso l'area archeologica che negli ultimi tempi sta registrando tantissime presenze. Pienone anche nel comune di Benvenuti al Sud, dove non sono mancati anche qui i tuffi nelle acque cristalline del mare di Castellabate. A confermare la massiccia presenza di visitatori, le lunghe code registrate a rientro, che hanno visto numerose autovetture fare ritorno presso le rispettive località di residenza. Il Cilento dunque si riconferma ancora una volta meta ambita per molti turisti e villeggianti, ma soprattutto terra di sole e del bel tempo.